Sul quadro di bilancio noi abbiamo una posizione che è ancora critica, siamo comunque ancora nella fase quasi iniziale della discussione. Secondo noi è soprattutto l'ammontare totale delle risorse che deve essere nutrito da tipi diversi di entrate. Non si può stare solo l'affidamento sui trasferimenti da parte degli Stati che sono oggi la quota superiore e bisogna incominciare a pensare a dei nuovi strumenti che possano fungere da entrate nel bilancio dell'Unione. Allora a quel punto disporremo anche di risorse più consistenti che per esempio secondo noi vanno anche impiegate molto nell'azione di cooperazione con in particolare i paesi dell'Africa, dell'Africa subsahariana da cui provengono i migranti. Quindi sarebbe questa grossa operazione di cooperazione allo sviluppo dell'Africa in cui l'Europa può fare qualcosa di consistente se si dota di risorse maggiori.